Ciao a tutti, benvenuti e bentornati sul mio canale. Il video di oggi è in realtà il video della terza parte della mia Makeup Collection in cui vi mostrerò prettamente tutti i prodotti che possiedo all'interno della mia Makeup Collection e che sono in realtà prodotti per le labbra. Parliamo quindi di tinte labbra, di lucida labbra, di rossetti, di matita per le labbra, di lip balm, ma anche di alcuni prodotti che possiedo per settare il viso intesi come setting spray e pennelli viso. Direi subito di iniziare e vi lascio subito alle clip. Allora, per prima cosa voglio farvi vedere il modo in cui ho organizzato i prodotti per le labbra e accessori Makeup e vi voglio far vedere appunto questo cassetto. Come potete vedere, vi faccio un veloce sneak peek, nella parte qui davanti ho questo divisorio di Primark, all'interno del quale ho messo appunto tutti i prodotti suddivisi per categoria. Abbiamo quindi rossetti, lucida labbra, matite labbra, matitoni, eccetera. Sul retro invece ho in questi due vasi dorati, che appunto ho utilizzato a modi contenitori e pennelli, ho in realtà tutti i pennelli per il viso, sul retro poi ho le spugnette e qui a fianco ho tutti i pennelli, o meglio la gran parte. Qui poi ho in realtà tutti i lip balm e quindi abbiamo la bello, un prodotto di Terry che appunto ha un ottimo lip balm, ho poi due accendini che utilizzo per riscaldare le punte delle matite e qui a fianco in realtà i due setting spray che utilizzo uno di Fenty Beauty e l'altro di Charlotte Tilbury, ma direi di passare appunto nel dettaglio e di farvi vedere tutti questi prodotti. Eccoci qui, adesso vi mostrerò nel dettaglio tutti quelli che sono appunto i prodotti per le labbra. Inizio con lo scusarmi per l'inquadratura, ma purtroppo non ho potuto fare diversamente e direi di iniziare subito da questo lato. Iniziando dalla parte qui in alto, ho in realtà quattro rossetti di pupa che sono tutti e quattro della collezione classica AIM Pupa e sono appunto dei rossetti rouge à lèvre che possiedo in diverse colorazioni. In primis vi mostro l'S075 che è questo bellissimo color fragola, un rossetto stupendo che utilizzo soprattutto nel periodo estivo. Ho poi l'U250 che è in assoluto il mio rossetto preferito di questa collezione di pupa. È un bellissimo color malva, effetto quasi velluto sulle labbra. Parliamo poi del R024 che è anche questo una bellissima punta di rosso, veramente bello come rossetto. E infine l'ultimo è l'S281, forse è quello lì in meno utilizzato, ma anche questo molto particolare, sembra quasi un color ciliegia sulle mie labbra. Veramente, veramente validi questi rossetti. Poi possiedo questo di Makeup Revolution che è in realtà nella numerazione Passion ed è appunto un classico rossetto rosso. Non mi ci dilungo più di tanto, è veramente il classico rossetto rosso che credo tutti debbano avere all'interno della propria Makeup Collection. Ho poi vari rossetti di Kiko. In primis ho questo bellissimo rossetto della collezione Lip Stillo e stiamo parlando del 14 Mirage, che è questo bellissimo rossetto in stick di questo colore malva, direi. Molto molto bello che lascia questo effetto lucido sulle labbra, quasi di labbra rimpolpate. Molto molto particolare. Ho poi uno degli ultimi rossetti di Kiko della collezione Natalizia, questo qui, della collezione Holiday Gem, che possiedo nella numerazione 01 ed è un bellissimo rossetto, come vedete ricoperto appunto di stelline e lascia veramente un bellissimo effetto luminoso sulle labbra, molto particolare. Sempre di Kiko poi ho questo rossetto della linea classica Fusion Lipstick nella numerazione 407 ed è un bellissimo rosa, ma un rosa che utilizzo soprattutto nel periodo estivo perché lascia veramente una bella punta di luminosità sulle labbra. Sempre di Kiko poi ho vari rossetti, ve li mostro tutti e sono in primis queste due che sembrano delle capsule. Uno in realtà è un gel di stilo e l'altro invece è un Unlimited Stilo. Questo gel di stilo lascia appunto un effetto gel sulle labbra, l'ho utilizzato tantissimo come potete vedere ed è questo bellissimo color malva che utilizzo veramente nella quotidianità. Una volta applicato si fissa molto bene sulle labbra e stesso discorso vale per questo qui l'Unlimited Stilo nella numerazione 20 che invece è un bellissimo color ciliegia. Questo qui in realtà ha un effetto matto, quindi una volta applicato si setta sulle labbra e dura per l'intera giornata. È comunque un rossetto transfer. Poi di Kiko sempre ho questo Gross Amere Motion della collezione Creamy Lipstick e anche questo è un bellissimo color fragola. È un colore che utilizzo tantissimo nel periodo estivo quando magari faccio un look occhi molto molto veloce, mi piace mettere in risalto appunto le labbra, utilizzo quasi sempre questo rossetto veramente bello. E un altro poi che mi piace tantissimo sempre della stessa collezione è il Velvet Passion 316 che invece ha diciamo questa punta che assomiglia molto ai rossetti di Charlotte Tilbury ed ha invece una colorazione molto molto più nude di base rosata. Poi credo non ho altri rossetti di Kiko ma nel caso ve li farò vedere. Ho poi parecchi rossetti di Wicon. Ho questo qui che è in realtà della linea classica Kiss Me on the Dance Floor nella colorazione 03 Sangria che è anche questo un bellissimo color rosato con una punta fredda all'interno. sempre della stessa linea poi ho il Matte Sublime 626, anche questo ho utilizzato tantissimo, questi in realtà sono i rossetti che di solito metto all'interno della mia borsa e porto con me al lavoro. Della stessa linea poi ho anche il 604, molto molto simile all'ultimo che vi ho mostrato. Poi ho questi due della stessa linea, questi qua, e sono il Shiny Love 04 French Kiss che è un bellissimo rosato. Questo qui a differenza degli altri due che vi ho mostrato lascia veramente un effetto di labbra rimpolpate, di labbra veramente voluminose, molto molto particolare e l'altro invece è il Creamful Lipstick, anche questo come vedete di base rosata. Ho molti rossetti molto molto simili come shade perché in realtà sono i rossetti che io personalmente utilizzo di più, quindi sono tra l'altro anche quelli che utilizzo maggiormente. c'è poi un altro rossetto di Kiko che è questo di Lip Me Lots, della collezione Lipstick Rossetto nella numerazione 03, molto molto bello, ha la forma a cuore ed è di questo bellissimo color direi ciliegia, molto molto particolare. Questi in realtà sono rossetti che utilizzo tantissimo nel periodo estivo. E sulla parte poi qui davanti ho in realtà tre bellissimi rossetti di Nars che ho ricevuto che ho ricevuto questo Natale. Eccoli qua, ve li mostro. Allora il primo è in realtà Toled della linea Lipstick Rouge à Lèvre, è un bellissimo color nude matte. Questi rossetti sono stupendi perché una volta applicati non mettono assolutamente risalto eventuali pellicine, eventuali secchezze delle vostre labbra. Ho poi Orgasm Satin che è questo bellissimo colore che sembra aranciato ma in realtà lascia soltanto un effetto luminoso sulle labbra e può essere utilizzato anche a modi topper, quindi su altri rossetti di base. Poi ho questo qui che è in assoluto uno dei miei preferiti ed è pur toujours. È un bellissimo nude freddo, tra l'altro è quello che indosso oggi, veramente un rossetto stupendo. E sempre di Nars poi possiedo queste due mini size dei rossetti classici che sono in realtà Star Woman, che è questo rossetto rosso, e l'altro poi è American Woman, anche questo è un bellissimo nude. Ho poi alcuni rossetti di Morphe che sono in realtà dei lipstick matte, quindi una volta applicati si fissano e si presentano in questo modo. Ecco, sono tre mini size e parliamo di Taunt, parliamo di Gelosy che è in assoluto il mio preferito e poi True Story che è quello lì meno utilizzato e che in realtà è un rossetto marrone, ecco. quindi in realtà è un rossetto che utilizzo veramente poco. Di questa linea poi possiedo anche tre lipstick che sono invece glossy, quindi lasciano un effetto luminoso. In realtà ne possiedo soltanto due perché il terzo l'ho terminato e sono Pixi, questo bellissimo qui, e Boohoo che invece è di base rosata. Poi, per quanto riguarda l'ultimo rossetto in full size, possiedo questo di Clinique, numerazione 07 Passion Pop, che è un bellissimo rossetto rosso, veramente uno delle più belle punte di rosso che possiedo all'interno della mia collection. Questo mi è stato regalato da mia sorella, mi è stato veramente un piacevole scoperto, un piacevole regalo. Ho poi varie mini size. In primis ho questa mini size di Becca che mi è stata regalata dal mio ragazzo in un kit, ed è Orchid, che è appunto questo bellissimo rossetto color orchidea, molto molto bello, super cremoso, super piacevole sulle labbra. Ho poi questa mini size di Nabla, anche questa di una collezione vecchia, bellissima, nella colorazione Bohème. È un bellissimo rossetto nude, molto 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 simile a quello di Nars che indosso oggi. Ho poi tre mini size di MAC, che ho acquistato lo scorso Natale, non questo 2020, ma 2019 in un kit. E sono in realtà tre mini size. Ho il Ruby Wood, è questa bellissima punta di rosso, come vedete sono veramente dei rossetti mini. Poi abbiamo Cosmic Comic, che è questo bellissimo color nude, lascia un effetto super luminoso sulle labbra, super piacevole. E l'altro invece che è un viola ed è Star Walk, che è questo bellissimo viola. Anche questo nonostante non sia nelle mie corde, l'ho utilizzato parecchio. E direi di passare adesso ai luci da labbra. Allora, per quanto riguarda i luci da labbra, ho tre luci da labbra della stessa linea di Fenty Beauty. Uno in full size, di questa linea Glossy Bomb, che è Fassi, e che è appunto il mio luci da labbra preferito di Fenty Beauty. Ho poi della stessa collezione, ma collezione natalizia della stessa linea, queste due mini size. Questo confetti, bellissimo, e l'altro invece hot chocolate. Sono entrambi dei luci da labbra che possono essere utilizzati anche come topper. Lasciano veramente un effetto luminoso bellissimo alle labbra. E poi possiedo questo qui, sempre di Fenty Beauty, che in realtà non è un luci da labbra, ma è un rossetto molto molto bello. Io possiedo nella colorazione Gucci Gang. Si presenta quasi come un vero e proprio lip balm, ma è un lip balm colorato, che una volta applicato quindi lascia leggermente un piacevole effetto sulle labbra. Va a uniformare appunto le labbra stesse, le rimpolpa, non mette in risalto eventuali secchezze, ed è anche tra l'altro un rossetto profumato, quindi super super piacevole da applicare. Ho poi due mini size di Huda Beauty, e stiamo parlando di un luci da labbra, che è il shameless, questo qui bellissimo che può essere anche questo utilizzato come topper. Ho poi un liquid matte di Huda Beauty, il Trophy Wife, che è uno dei rossetti appunto classici di Huda Beauty. Possiedo poi questo exotic shine lipstick di Kiko, bellissimo questo lo utilizzo tantissimo d'estate quando veramente faccio dei look molto veloci magari metto soltanto la liner o una matita il mascara, e metto questo sulle labbra, lascia veramente un effetto stupendo. E poi ho due prodotti interessanti, tra i miei preferiti, questo di Lancome, che è un vero e proprio lucida labbra, ha una profumazione all'anguria super piacevole sulle labbra, lascia un effetto rimpolpato veramente bello, e poi un rossetto di Charlotte Tilbury, ed è in realtà della linea classica Pillow Talk, ma è in realtà il Pillow Talk Intense, è questo bellissimo colore veramente nude ma con tocco scuro all'interno, freddo, molto molto bello sulle mie labbra. Vorrei acquistare anche il Pillow Talk Medium, perché trovo che sia quello che dal mio punto di vista mi stia meglio, quindi vorrei provare anche quello e direi adesso di mostrarvi la parte centrale, dove sul retro ho in realtà i luci da labbra e qui davanti ho i matitoni labbra e le matite. Allora iniziando dai luci da labbra ho due luci da labbra di Kiko e sono questi della linea Extra Volume Lip Gloss, che li trovate ancora li possiedo nella colorazione 15, che è un bellissimo color champagne, che tra l'altro io utilizzo anche sulle tinte labbra mi piace tantissimo, e l'altro invece è nella colorazione 19, questo bellissimo rosso, rosso scuro, intenso poi ho questo luci da labbra di Anastasia, che mi piace tantissimo, è il Trouble Liquid Lipstick lascia veramente un bel effetto cremoso sulle labbra, super super piacevole ho poi ho poi questo di Bellapierre, il Kiss Proof Lip Cream, che in realtà mi è uscito all'interno di una beauty box di Look Fantastic, anche questo molto molto carino color carne ho poi due molto simili di Slick, entrambi mi sono usciti all'interno delle beauty box di Look Fantastic come potete vedere sono veramente molto molto simili il primo è il 037, l'altro invece è il 1036, molto molto simili tra loro si settano sulle labbra, quindi una volta applicati si asciugano e si fissano e poi ho questo di Mellow, che è un bellissimo color carne, color nude poi ho due Super Stay Matte Ink di Maybelline, bellissimi, mi piacciono tantissimo e li possiedo nella colorazione 15 e nella colorazione 20 queste sono veramente delle ottime tinte labbra, che tra l'altro hanno un prezzo molto piccolo una volta applicate si fissano sulle labbra e durano varie ore non l'intera giornata, ma durano veramente tantissime ore poi, come lucida labbra possiedo? allora, questo qui di Rimmel, che è lo Stay Matte anche questo è un rossetto che si asciuga e si fissa sulle labbra è di questo color carne, quasi caffè e latte, direi in realtà l'ho utilizzato poco, vorrei quasi declatterarlo insieme poi ad altri prodotti ma staremo a vedere ho poi questo lucida labbra trasparente di base rosata di Idea Bellezza che ho da tantissimo tempo, ma continuo ad utilizzare anche come topper e poi questo di Bottega Verde, lo Shiny Lip Gloss molto molto particolare, perlato, lascia un effetto satinato molto bello sulle labbra che all'interno contiene burro di mango e vitamina E e per concludere, diciamo, con i lucida labbra possiedo questo di Charlotte Tilbury che è in realtà l'iSociety è uno degli ultimi lucida labbra che ho acquistato molto molto bello, di base rosata lascia veramente un effetto particolare sulle labbra questo poi di Collister mi piace tantissimo è un gloss design mi è stato regalato da mia sorella è in realtà di base trasparente e una volta applicato può essere applicato da solo ma anche come topper lascia un effetto glossy alle labbra quasi di labbra rimpolpate infine, tra gli ultimi lucida labbra possiedo questo Grand Rouge Elisir di Verocher che mi piace tanto, mi è stato regalato da mia sorella ed ha un colore molto molto particolare e infine, questo di La Masca che mi è uscito all'interno di una beauty box che è in realtà il Loaded Lip Polish che possiedo nella colorazione Brillanza Lever Vogue molto molto particolare anche questo, ve lo faccio vedere ed è appunto un lucida labbra quasi rossetto quasi tinta ma lascia comunque un effetto cremoso molto molto particolare sulle labbra poi, ultimo lucida labbra che possiedo è questo di Sephora molto molto bello è l'unico lucida labbra fucsia che possiedo che tra l'altro mi sta molto bene ogni volta che lo applico molte persone mi chiedono sempre quale prodotto sia mi è stato regalato da mia sorella trovo che mi stia molto molto bene questo colore e infine poi ho tre prodotti di Bottega Verde che mi piacciono tantissimo e sono questi rossetti liquidi tenuta estrema questi tre il rosa velluto rosso ciliegia e questo si chiama Watermelon veramente tre rossetti bellissimi una volta applicata si asciugano si settano e sono no transfer veramente degli ottimi prodottini infine gli ultimi prodotti che vi voglio mostrare sono in realtà dei matitoni labbra e le matite labbra i matitoni labbra che possiedo sono in realtà tre due sono di Nars e sono in realtà il Mamed che è questo bellissimo colore che è uguale al colore delle mie labbra di solito lo utilizzo sia per delineare le labbra ma anche per riempirlo a mo' punto di rossetto e lo stesso faccio con il Trashed che è questo bellissimo color fragola l'ultimo invece è questo Crayon Glossy di Kiko nella colorazione 06 che può essere utilizzato sia come lucida labbra ma anche come topper vedete lascia questo effetto luminoso sulle labbra molto molto particolare e poi gli ultimi prodotti sono appunto queste matite la maggior parte sono matite di Kiko sono sincera trovo che le matite di Kiko sono veramente valide e ve le mostro subito allora la prima è questa Precise on Lip Pencil nella numerazione 307 ed è un classico rosso poi sempre della stessa linea la 507 che è questo bellissimo color fucsia la 709 della stessa linea poi la 308 che è questo bellissimo rosso intenso di Wicon possiedo della linea matita labbra 27 sangria molto molto bella vinaccia scuro numero 11 sempre della stessa linea poi poi Lip Pencil Wicon 05 rosso Kiko questo qui è un Lip Pencil nella numerazione 05 vecchissimo ma lascia un effetto cremoso sulle labbra super piacevoli il Creamy Color di Kiko nella numerazione 312 e infine le ultime tre matite una è di Diego della palma e della numero 80 è un bellissimo color carne molto molto simile a quello che indosso oggi sulle labbra questa di Lord & Berry che in realtà è un vero e proprio caffè latte quindi parliamo di un marrone e infine l'ultima matita è di Debbie la Lip Pencil numerazione 5 waterproof ebbene questi erano appunto tutti i prodottini delle labbra che possiedo all'interno della mia makeup collection spero che il video di oggi vi sia piaciuto spero che io vi abbia tenuto un po' di compagnia mi raccomando se non siete iscritti al mio canale iscrivetevi attivate la campanella delle notifiche e noi ci vediamo molto presto con un nuovo video un bacio ciao